Treno regionale 4948 di Trenitalia, delle ore 5 e 14, proveniente da Poligno, è in arrivo al binario 2. Termine corsa. Treno alta velocità freccia rossa 93.00 di Trenitalia, delle ore 5 e 24, diretto a Torino Porta Nuova, è in partenza dal binario 1. Fermata, Perontola Cortona, Rezzo, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale Sotterranea, Reggio Emilia Mediopanania, Milano Centrale, Milano Rogorevo, Torino Porta Susa Sotterranea. Si invitano i signori viaggiatori di disporsi presso i settori di salita, relativi alla propria prenotazione. Il treno espleta servizio bar ristorazione. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 7, 4, 1, di Trenitalia, delle ore 7 e 08, diretto a Arezzo, e in partenza dal binario, 15. Ferma in Firenze Camponate, Pontasieve, San Pedro, Regnano, Incisa, Filine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Terra Nuova, Mucine, Laterina, Ponticino. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.